Primo weekend di luglio sulla costa dove l'estate è entrata nel vivo anche con le temperature che ormai si sono stabilizzate. Sole, mare pulito e tanto caldo a Termoli dove le spiagge sono state prese d'assalto nonostante il fine settimana sia coinciso con l'inizio dei saldi. Segno che la voglia di mare è davvero tanta, soprattutto dopo lunghe giornate di lavoro. Funziona a pieno ritmo anche il servizio di navetta che porta cittadini e turisti in spiaggia gratuitamente, soddisfatti i balneatori per l'inizio di stagione. Abbastanza bene, non possiamo, nessuno si può lamentare anche se da qualche giorno è iniziata realmente la stagione perché il sole, il sole e l'acqua pulita permette tutto in pratica. Diciamo che anche la bandiera blu comunque è sempre una garanzia. Sì certamente è sempre una garanzia perché Termoli realmente ha il mare che è stupendo. E spiaggia ce n'è per tutti, per i più piccoli che si divertono tra i gonfiabili in mare e i castelli di sabbia, per i più grandi in relax sotto l'ombrellone o direttamente in acqua. Pronto per una nuotata, un'immersione? No, sto aiutando mia figlia a imparare a nuotare e andare sott'acqua, quindi abbiamo comprato l'attrezzatura nuova e vuole imparare a andare con le pinne con la maschera, tutto qui. Bella giornata oggi? Sì oggi fa molto caldo veramente. Acqua pulita? Speriamo che continui anche in futuro e speriamo che sistemi il depuratore così avremo l'acqua pulita per tutta la stagione. Una vitaccia? No una vitaccia no, qua si sta bene. Eh qua sì si sta bene, direttamente sull'acqua? Direttamente sull'acqua. Quando a caldo si bagna un po'? Sì è vero. Oggi bellissimo vero? Una bellissima giornata. Lei è di Termoli? No io sto in Belgio. Viene qui ogni anno? Sto qui ogni anno in vacanza. Oggi si sta benissimo, sì è ventilato e si sta molto bene. Lei da dove viene? Da Roma. Viene spesso qui a Termoli? Una volta l'anno, proprio nel periodo, in questo periodo generalmente, a giugno. Come si trova qui? Benissimo, è un posto tranquillo per chi vuole riposarsi. Dura la vita? Durissima, guardi, se ne è accorta anche lei? Sì, un po' di invidia veramente. Eh lo so, lo so, io in effetti sono qui in relax mentre lei lavora. Da dove viene? Io sono di Campobasso ma vivo a Termoli da sette anni. Si trova bene qui? Direi proprio di sì, soprattutto in questo periodo. Una passeggiata rilassante e rigenerante dopo un anno di lavoro ci voleva, poi quest'anno Termoli davvero soffrendo molto. Mi sembra di stare in vacanza da Termolese però, eh? E viva il mare di Termoli, una bellissima spiaggia e dobbiamo essere fieri.